345 nuovi casi in Abruzzo, perfino in un monastero di clausura. Oggi i positivi sono stati l'8,5% dei 2849 test processati nelle ultime 24 ore. Riguardano persone d'età compresa tra un mese e 104 anni, 128 sono riferiti a focolai già noti. Il bilancio dei pazienti deceduti registra 8 nuovi casi e sale a 532, di età compresa tra 73 e 90 anni, 4 residenti in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Chieti, 2 in provincia di Teramo. 118 dei nuovi casi di oggi si riferiscono a persone della provincia dell'Aquila, 61 a quella di Chieti, 59 a quella di Pescara e 89 a quella di Teramo, mentre 3 provengono da fuori regione e per altri 5 sono in corso verifiche per accertarne la residenza. Le attualmente positivi in Abruzzo, sottraendo i guariti e deceduti, sono 4609 più 246 rispetto a ieri. Di questi, 284 pazienti più 35 rispetto a ieri sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 22 più uno rispetto a ieri in terapia intensiva, mentre gli altri 4303 più 220 rispetto a ieri sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. E il virus arriva anche in un monastero di clausura, diffondendosi tra le suore. È successo nel monastero di Santa Maria del Monte Carmelo a Pescara, dove 6 delle 16 suore che vivono nella struttura sono risultate positive al test.